Ce l'avete presente le leggende su Bill Gates che da sbarbato andava a pranzo e si presentava con un libro o una rivista e alla fine del pranzo aveva già finito di leggerlo. Saper imparare, velocemente, imparare, non leggere soltanto e memorizzare, imparare, non so come si facciano le uova strapazzate e poi so fare le uova strapazzate, per partire dai grandi problemi della vita è la grande dote, il grande superpotere, ne abbiamo parlato già più volte ma come si fa a imparare più velocemente? Prima di continuare però aspetta perché questo video è offerto da me stesso, il vostro pelato preferito Bellin ci sono tre progetti che vorrei che tu guardassi, fermati un attimo e guardali www.competenze.online, se vuoi sviluppare una nuova competenza in guidine veloci che ti digerisci in un'oretta www.askmonti.it, vuoi mandarmi un vocale o fissare una call su Zoom con me, eccoci qua oppure 4books.com app fighissima con i riassunti delle migliori idee di business www.competenze.online, askmonti.it, 4books.com Enjoy the video! Ora, io sarò sincero, in 45 anni non ho mai capito la formula segreta per imparare come Neo di Matrix però è anche vero che mi sono incocciato in una serie di suggerimenti utili o meno utili e di volta in volta ho fatto la mia personalissima sintesi che cerco di portarvi in questo video cerco di riassumervi, quello che mi sembra le tecniche più interessanti, le idee più interessanti sapendo che ognuno poi ha il suo modo di imparare mi ricordo che c'era un ragazzo che a ping pong imparava esclusivamente se gli toccavi il braccio io imparavo guardando un altro eseguire un gesto ognuno è diverso e l'altra cosa che diamo per scontata è che ci siano una serie di requisiti che sono importanti dormire, perché almeno il cervello si riprende, si ripulisce tutto bene, la mattina tira se mi sveglio fare attività fisica, ogni volta che io vado a fare il mio training con Jack a questo punto torno e ho tutto il neurone che balla così per cui ci sono una serie di cose ovvie secondo me il fatto che non puoi star lì a studiare 24 ore al giorno, qualunque cosa o allenarti 24 ore al giorno o studiare 24 ore al giorno perché dopo un po' il tuo cervello va in pappa, termine molto scientifico però se l'avete provato sapete cosa intendo quindi diamo per scontato questi aspetti qui arrivare, insomma, avere anche un minimo di voglia di imparare se non ci voglio imparare non guarda sto video chi ha delle cose interessanti da dire? il primo è senz'altro Tim Ferriss ha questa teoria che chiama DSSS quattro caratteristiche, quattro passaggi per riuscire a imparare più velocemente una tecnica il primo passaggio lo chiama Deconstructing che è una cosa molto comune, molti ne parlano il fatto di dividere una macroattività che devi imparare in tanti piccoli pezzettini facciamo un esempio se tu devi imparare tu spendi dritto, ok? tu spendi dritto a ping pong o a tennis è la stessa cosa se ti limiti a dire ok il movimento inizia indietro e finisce in avanti e poi ho sbagliato, l'ho fatto giusto è troppo complicato se tu invece lo dividi in tanti pezzettini diventa più facile e dici ok le gambe in che posizione devono stare il bacino come parte a muoversi spalla quando va avanti braccio, avambraccio, polso hai il grande vantaggio in questo modo che lo dividi in tanti pezzetti e li puoi misurare e ognuna di queste microattività poi diventa un po' una seconda pelle diventa naturale, istantanea e passi al pezzettino dopo altro suggerimento carino di Tim Ferriss è il fatto di chiedersi ogni volta che vuoi imparare qualche cosa chi è che ha avuto successo chi è che è bravo a fare quella roba lì ma che non è un talento naturale facciamo un esempio se vuoi imparare gli scacchi ovvio magnoscarsene è un genio ma se guardi il documentario questo era un genio sin da quando aveva tre anni allora devi vedere uno che non era affatto un genio e che ha usato un metodo e a quel punto funziona e la seconda domanda interessante è chi è che ha avuto risultati sostenibili e replicabili perché a quel punto ti dimostra che un metodo funziona il secondo passaggio di Tim Ferriss è selecting selezionare c'è sempre un 20% che fa l'80% risultato esempio se tu leggi un libro magari devi studiare un papiro di diritto costituzionale il 20% delle nozioni che sono dentro lì costituiscono l'80% di quello che devi sapere o una lingua le prime mille parole sono quelle che poi sono usate nel 75-80% dei casi o delle conversazioni ti concentri sul 20% o pensate nel business il 20% dei tuoi clienti magari fa l'80% del tuo fatturato o se sei un atleta magari l'80% dei tuoi punti lo fai con il 20% del tuo repertorio tecnico non è che devi sapere tutto ti basta concentrarti almeno all'inizio su quel 20% che fa la differenza il terzo passaggio lo chiama sequencing cioè mettere nell'ordine giusto le attività che devi fare quali sono i prerequisiti per arrivare a fare un certo tipo di attività se devi imparare a fare la verticale sulle mani quali sono i prerequisiti fisici di preparazione fisica mentali o quello che è o la mano una mano grande così o se devi studiare un libro nel mio caso un prerequisito è avere la penna faccio parte della categoria di persone che senza una penna non sta di fatto leggendo il libro no? perché devo scarabocchiare scrivermi così un concetto carino in questo caso da ricordarsi è quello riepilogato dalla professoressa Barbara Oakley che ha fatto su Coursera un corso gratuito che si chiama Learn How to Learn o una roba del genere andatevelo a vedere e è questa differenza tra la modalità concentrata focus mode e diffuse mode esempio da lì o Edison avevano questa modalità di realizzazione delle proprie opere o di esecuzione delle loro idee inventive nel caso di Edison stavano lì si accasciavano nel caso di da lì si accasciavano con le sue chiavi in mano quando si addormentava la chiave cadeva pum lui si svegliava e a quel punto passava da questo stato un po' mezzo addormentato un po' creativo dritto a farsi il suo quadretto e quindi molto concentrato sull'attività da fare serve soprattutto passare continuamente da queste due fasi una fase un po' più creativa dove proprio il cervello è fatto diversamente andatevi a sentire la spiegazione della Oakley ma questa fase più concentrata dove invece sei più esecutivo non so non l'ho spiegata bene ma spero l'abbiate capito e l'ultimo consiglio ditte in ferro è quello di mettere sempre degli stakes degli incentivi avere un incentivo una volta che stai studiando o hai imparato qualche cosa è l'incentivo che ti dà la continuità ho visto queste interviste a Phelps in un documentario gli hanno detto quante volte non ti sei allenato negli ultimi cinque anni questo era qualche anno fa lui guarda l'intervistatore e dice non ho mai perso un giorno di allenamento negli ultimi cinque anni wow la continuità ma il motivo è che siccome diceva ma in piscina se tu perdi un giorno di allenamento poi ne devi recuperare due no? di forma fisica una spiegazione del genere e allora è incredibile come l'incentivo poi è quello che ti aiuta a tenere questa continuità lasciamo da parte di Tim Ferriss altri consigli c'è la cosiddetta Feynman Technique che io uso personalmente spiegare a voce alta in modo semplice un concetto che hai appena imparato è una cosa semplice questa ma Feynman era the great explainer il grande spiegatore effettivamente funziona provate una volta che avete finito di studiare qualcosa a spiegarlo come se foste voi i prof e vedete se vi torna meglio però sempre cercando di trovare delle parole semplici come spiegarlo a un bambinetto altre cose utili l'uso di metafore chiaramente aiuta a comprendere dei concetti no? quando avete degli esempi e vi fanno una metafora è molto più facile da capire mettersi davanti ai perché dopo che hai studiato perché no? il perché ti forza a trovare la spiegazione giusta a sapere esattamente essere padrone di quella materia lì e poi se siete come me avere una data di scadenza cioè imparare così in generale è un casino invece se dico ok entro questa data qui devo imparare questa roba qui devo finire questo libro devo riuscire a padroneggiare questa tecnica una deadline è quella che ti aiuta a essere un po' più motivato e non perderti via a scuola se eravate come me eravate di quelli che diceva cacchio studio molto meglio sotto pressione ma perché? perché è una deadline dici entro lunedì devo essere pronto perché c'è l'interrogazione e un po' il meccanismo è questo qui molto bene questo era il mio mega riassunto ne spero vi possa tornare utile c'era anche quest'altro video non mi ricordo come si chiama il prof si chiama study less study smart una roba del genere lo trovate su youtube che era anche carino dava alcune indicazioni utili Tim Ferriss ve l'ho detto il corso su Coursera andatevelo a vedere e se nei commenti volete lasciare i vostri consigli per imparare più velocemente è fantastico diventeremo tutti molto più imparatosi grazie